Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere una maschera che ho comprato con un video col prezzo. Questa è molto figa, guardate anche lì qua. La indosso. Vedi, vedete com'è. Cioè, secondo me questo è giusto. Secondo me ci sta. Molto figo, poi, cioè, dovete sistemarvela voi, come volete io, infatti la tengo, sì o meno così. Vabbè, ciao ragazzi.